il center for near earth object studios ha realizzato una simulazione con lo scopo di fare esercizio hanno infatti insieme alla nasa inventato il 2021 pdc un asteroide fittizio che in caduta sulla terra minaccia l'impatto ebbene le cose non sono filate molto lisce 19 aprile 2021 un asteroide a 57 milioni di chilometri di distanza viene scoperto con il 5 per cento di probabilità di impattare sulla terra il 20 ottobre del 2021 nella simulazione dopo sei mesi di provviso dell'arrivo di questo asteroide gli esseri umani non sono riusciti ad evitare il peggio il masso è piombato sull'europa orientale generando tanta energia quanta una bomba atomica la conclusione è che le attuali tecnologie non consentono di inviare una missione di ricognizione o di mitigazione in tempo per scongiurare un eventuale fatto simile in poche parole siamo ancora obsoleti per evitare quindi scongiurare l'impatto di un ipotetico asteroide e voi che cosa ne pensate scrivetemelo qui sotto nei commenti